Sono stati inaugurati oggi agli IFO istituti Regina Elena e San Galicano due nuovi sistemi diagnostici PET di ultima generazione in grado di identificare i tumori sin dai primi stadi e di monitorare la risposta dei pazienti ai trattamenti. L'utilizzo di questi macchinari completamente digitali dà un grosso contributo alla riduzione delle liste d'attesa nel settore oncologico. Secondo l'assessore alla sanità Alessio D'Amato le nuove macchine permetteranno infatti di realizzare 7 mila esami in più ogni anno. Il costo dei due macchinari di oltre 3,7 milioni di euro è stato sostenuto dalla regione Lazio e dai finanziamenti del PNRR.